La mattina mi alza e comincia a leggere, poi a un certo punto quando ho letto abbastanza intorno all'argomento scrive sempre la mattina, scrivo soltanto la mattina, sono capaci di scrivere soltanto la mattina, non al pomeriggio, al pomeriggio non posso scrivere, ho bisogno di tastare i libri, di fare dei segni, molto fisico, bisogna amarli molto. E quando scrive, scrive come? A penna, con la biro. Rigorosamente, poi correggo e poi batto la macchina e poi... Computer no? Computer non so cosa sia, ignoro completamente il computer, sono molto più contento di adoperare una penna biro.